Eccoci qua, voglio fare questo messaggio di saluto e di ringraziamento ad Agugliano Gelato Festival perché dieci anni fa iniziò così con una visita a casa mia di Sauro, la moglie, il mitico Tremonti dove ci fu questo progetto della festa del gelato, con il pensiero che ad Agugliano c'era già una gelateria esistente quindi tutto sembrò più semplice perché non conoscendo Paolo Brunelli dissi guarda è un'opportunità per tutti quindi andiamo avanti alla Tireno City incontrai Martino Liuzzi, gliele parlai, lui stupito mi disse ma io sono di Agugliano porca miseria, allora si vince facile qua gli presentai Alex Revelli e da lì nacque tutto il progetto veramente è stato un impegno emozionante ed entusiasmante come tutte le cose dopo un po' di anni possono essere giudicate ma Agugliano con la sua volontà con il suo modo di fare tutto il paese partecipe è stato un esempio per tanti da lì sono nati tanti bravissimi gelatieri, oggi ambasciatori, grandi professionisti quindi io sono solo che onorato di aver fatto parte e di far parte di questa famiglia sono in Argentina, mi sento in dovere di fare un saluto e un augurio a tutti voi un grazie, continuate così e tante belle cose, tante soddisfazioni ciao Agugliano, ciao ragazzi